mi corre l'obbligo di fare alcune precisazioni alcuni fatti il mess esiste dal 2012 non è stato istituito ieri non è stato approvato la scorsa notte questa volta lo devo dire devo fare nomi e cugnomi questo governo non lavora col favore delle tenebre questo governo guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza se ha qualche proposta a portare la porta chiaramente guardando negli occhi tutti gli italiani l'eurogruppo non ha firmato nulla né ha istituito alcun obbligo è una menzogna questa questo governo non lavora col favore delle tenebre le tenebre quarantena... 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 quarant secondo Matteo Salvini totalmente inadatto rispetto all'emergenza che stiamo vivendo quindi sin dall'inizio lo ricordo l'Italia non ha bisogno di Giorgia Meloni terzo e ad essere ancora più chiari l'Italia non ha firmato alcuna attivazione del MES non ha bisogno del MES l'ho già dichiarato l'ho detto più volte devo fare noni e cugnomi quarantene 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 l'ho già dichiarato l'ho detto più volte già dichiarato l'ho detto più volte il MES quarantene quarantene l'ho già dichiarato l'ho detto più volte già dichiarato l'ho detto più volte quarantene 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 Quarantena